L'emergenza Covid-19 sta cambiando la vita delle donne. La provincia di Teramo dà il via ad un'indagine sulla condizione femminile letteramano. A certificarlo a livello nazionale è l'Istat. Questa pandemia aumenta le disuguaglianze e colpisce le fasce di popolazione dove c'è maggiore fragilità. Donne e giovani sono quelli sui quali pesano maggiormente gli effetti negativi. La disoccupazione femminile è tornata infatti a superare il 50% del totale. Per questi motivi la consigliera delegata provinciale alle pari opportunità, Veta Costantini, ha deciso di dotarsi di uno strumento di indagine accurato per fotografare la situazione nella provincia di Teramo. Nasce così il monitoraggio donne e Covid-19, un osservatorio che andrà a indagare tematiche specifiche come il lavoro irregolare, lo smart working, la vita domestica con i conseguenti carichi di lavoro, le famiglie separate, la povertà, la perdita o contrazione dei redditi, la salute e la didattica a distanza. A condurre l'indagine Agnese Vardanega, docente esperta in sociologia e statistica dell'Università di Teramo, già da oggi sono iniziati i confronti con i rappresentanti delle parti sociali, sindacati e associazioni di categoria, degli ordini professionali, dell'ASL e delle altre organizzazioni pubbliche, per presentare l'iniziativa e la metodologia utilizzata e chiedere collaborazione nella diffusione dei questionari che saranno distribuiti sia in forma cartacea sia in forma digitale attraverso le piattaforme dedicate.